eccoci pronti amici per la nostra rassegna stampa buona giornata da massimo foghetti leggiamo come sempre i giornali di prima mattina a partire dal resto del carlino del Corriere Adriatico per quanto riguarda le notizie di carattere locale ma prima diamo un'occhiata al calendario dei Santi e vediamo che oggi si festeggia Santa Sara di Antiochia visse tra il terzo e il quarto secolo sposò un militare di alto grado impegnato però nelle persecuzioni che erano state disposte dall'imperatore Diocleziano fu da quest'ultimo dal marito appresa la fede cristiana della moglie denunciata denunciata al giudice alle autorità di allora così Sara fu condannata a rogo pensate insieme ai suoi due figli che la stessa aveva battezzato in maniera molto molto miracolosa Santa Sara di Antiochia di lei si sa poche cose ma la sua santità è accertata veniamo ora alle previsioni del tempo vediamo come c'è stato un cambiamento rispetto alla giornata di ieri la situazione si è evoluta nei confronti di un tempo un pochino più perturbato ci sono nubi irregolari questa mattina nel cielo della regione a tratti compatti a tratti più diradate e comunque le temperature si mantengono piuttosto gradevoli siamo sempre in primavera e le massime raggiungeranno i 19 20 gradi i venti ispireranno sulle coste da una direzione media di est e sud est mentre nell'entroterra da ovest sud ovest ed ora apriamo il giornale a partire dal resto del carlino questa mattina vediamo subito l'apertura sulla pagina di Fano e vediamo come si fa un consuntivo delle presenze turistiche dopo le festività pasquali turismo operativi 18 hotel su 46 insomma non tutti ancora sono aperti ancora serve un po di riscaldamento specialmente nelle ore più fredde della sera entro maggio comunque apriranno tutti afferma il giornale il presidente degli albergatori luciano cecchini fa il punto sull'ottimo esordio del weekend di pasqua adesso arriveranno gli alpini poi gli sportivi unico neola quadrilatero che dirotta tanti verso sud le iniziative sportive le gare sportive sono sempre un grosso trainer per quanto riguarda la tendenza del turismo locale e gli alpini gli alpini fanno un raduno in romagna ma qualcuno dato che sono tantissimi arriveranno anche a qualcuno arriverà anche negli alberghi di Fano non passano di mano comunque gli hotel ma i camping sì e il giornale evidenzia come alcuni camping della zona sud del fiume metavolo si concentrano nella gestione di intere famiglie il campeggio di madonna ponte è passato alle famiglie letizie e borgoggelli già proprietari di altre due insomma c'è anche un impero per quanto riguarda i camping che sono una fonte di attrazione turistica da non sottovalutare perché c'è molta gente che ancora ama il plein air cioè poter fare una vacanza senza essere legati ad un posto ad un altro girare in continuazione e trovare il posto per una tenda oppure per il posteggio di un camper ecco come cambieremo il volto di sassonia è una presa di posizione del vice sindaco cristian fanesi per quanto riguarda il waterfront quel grande interessante progetto che dovrebbe qualificare il lungomare sia di sassonia che della zona sud del fiume metauro fanesi annuncia un incontro con gli operatori per presentare nei suoi particolari il progetto perché in linea di massima è già stato già presentato si torna dunque a parlare del waterfront il progetto che dovrebbe rivoluzionare appunto il lungomare progetto affidato all'architetto milanese andrea govi non ci sono invece i riscontri per quanto riguarda come cambierà il lungomare di torrette e ponte sasso al momento ci si concentra sulla zona di sassonia poi ovviamente si vedrà anche questo secondo punto del progetto perché poi il progetto è di un tutt'uno comunque sono stati pubblicati due bandi e ci sono due vincitori giriamo la pagina sul resto del carlino e vediamo una notizia che coinvolge il sindaco massimo seri lo vediamo qui in una foto con un viso un po preoccupato seri è risultato positivo al covid 19 solo tosse lavoro da remoto ha dichiarato il primo cittadino la variante omicron ha colpito anche il sindaco ho avuto i primi sintomi il giorno di pasqua ho fatto un tampone di sicurezza e il risultato è stato positivo come si sente dice anna marchetti che l'ha intervistato bene dice il sindaco solo del raffreddore un po di tosse ma niente febbre in questo momento sono in giardino per fortuna è una bella giornata di sole sono in compagnia del mio cane ha dichiarato il sindaco insomma non è che ha dei grossi sintomi non si sente male quindi e dovrebbe essere una forma leggera appunto della pandemia è in isolamento comunque resterà fino a domenica prossima e le redini del comune saranno rette dal vice sindaco cristian fanesi un capriolo durante le festività pasquali è finito nel canale albani e non è la prima volta che accade questi animaletti che magari di notte scendono dalle colline magari anche per abbeverarsi e quando sono nei pressi del canale albani magari slittano con i loro zoccoli e cadono in acqua questa volta è andata bene al capriolo che è stato recuperato con un'operazione non affatto semplice dai vigili del fuoco è successo nella tarda serata di pasquetta l'animale comunque sta bene rubano profumi per 400 euro al beauty two una era già stata condannata l'altra ora è a processo e avrebbe distratto il titolare mentre la complice rubava dei profumi molto molto costosi alle spalle della cassa e il fatto è avvenuto molto indietro il 25 marzo del 2017 si tratta comunque di due trentenni rom la prima era già stata condannata a otto mesi di carcere e ora è finita processo anche la seconda originaria di milano residente però a san lorenzo in campo ieri l'udienza comunque è stata rinviata pnrr mondavio sogna in grande 3,5 milioni di investimenti dal pnrr a tanto ammontano i progetti che sono stati presentati oppure sono in cantiere per accaparrarsi i fondi nazionali zenobi intervenire dalla rocca alla periferia ha dichiarato il sindaco mirko zenobi progetti già presentati nei bandi di pnr per oltre 2 milioni e altre se ne presenteranno si tratta di interventi particolari importanti per quanto riguarda la qualificazione di questo meraviglioso centro della nostra provincia sono interventi previsti alla rocca roveresca per la sistemazione del rivellino poi la digitalizzazione dei contenuti museali nella chiesa di san francesco dove è necessario sistemare la pavimentazione nel teatro a pollo per la messa norma dell'impianto antincendio e nel piazzale luigi grilli entro maggio sarà emanata la graduatoria da parte del ministero per l'assegnazione di questi di questi fondi a urbino c'è stata una riunione che si è svolta nell'aula magna del rettorato con il procuratore boni e il rettore della università ebbene si è registrato un drastico calo dei furti nell'ultimo triennio l'annuncio è stato dato dal procuratore boni nel corso della presentazione del bilancio sociale della procura fatta col magnifico rettore calcagnini qualche dato tra i dati presentati sono emersi un drastico calo dei furti nel triennio da 410 del 2019 a 266 nel 2021 vedete come il calo è considerevole e poi da 141 nelle case a 65 nel 2021 specialmente quelli in appartamento è un sostiale clima non emergenziale esente da fenomeni da criminalità organizzata all'interno della circuzione del tribunale feltresco quindi la situazione dell'ordine pubblico va molto molto migliorando appunto nella zona di urbino partito democratico e vivo urbino si arretri la ferrovia l'opposizione consigliare ribadisce l'opportunità di sfruttare il nuovo tracciato per favorire l'entroterra ma qui come sappiamo ci sono dei grossi problemi anche di accordo dalle parti politiche vediamo anche le pagine pesaresi per quanto riguarda il resto del carlino e ripartiamo dalla situazione turistica l'istorante hotel musei il sold out di pasqua e con l'adriatic cup si punta al raddoppio anche e ovviamente a pesaro le iniziative turistiche le iniziative sportive attraggono persone e comunque il giornale esprime la soddisfazione dei titolari dei locali e l'entusiasmo dell'assessore della dora per l'altro evento del prossimo weekend dedicato al basket ma il presidente dell'apa costantini frena sull'estate e beh ci sono i timori scaturiti dalla guerra in ucraina col caos creato dalla guerra impossibile fare pronostici ha dichiarato il rappresentante di categoria ci sono novità per quanto riguarda la somministrazione del vaccino ebbene il ristò che è stato costituito per somministrare appunto la cura preventiva ha ricevuto un avviso di sfratto si ridisegna così la strategia anti-covid i locali che sono stati individuati all'iper rossini dovranno tornare nelle disponibilità del privato quindi il direttore dell'area vasta magnoni dice forse non servirà più quel genere di spazi niente da fare per la nuova sede del distretto a muraglia una cosa è certa comunque la campagna vaccinale potrà continuare negli spazi dell'iper rossini a preannunciarlo e il direttore dell'area vasta romeo magnoni insomma ci sono delle contraddizioni in questo caso tra lo sfratto e la continuazione del servizio comunque per quanto questo per quanto riguarda pesaro per quanto riguarda invece le altre località del territorio a urbino non ci dovrebbero essere problemi invece a fano si dice dice magnoni ci stiamo guardando attorno perché al codma ci sono dei problemi se ci venga un incontro per quanto riguarda l'affitto resteremo lì altrimenti anche al codma dovremo cercare altri locali e questa è un po' situazione che si preventiva per la primavera inoltrata e veniamo a quel caso di cronaca che ha visto un trainer un allenatore di una squadra di ragazzini essere malmenato violentemente dal genitore di un giocatore dimesso il mister picchiato mi sento un miracolato ha dichiarato ho rischiato di perdere un rene ha avuto un calcio terribile alla schiena e il rene ha sanguinato per colpa dei pugni calci di un pazzo francesco latini di terni questo è il nome dell'aggredito e dichiara un po' tutto quello che è avvenuto lui ha 33 anni era l'allenatore è l'allenatore di calcio delle giovanili di terni ed è tornato a casa dopo due giorni di indigenza pensate all'ospedale bufalini di cesena è intervenuto perché due ragazzini di 13 anni pensate l'età di questi giocatori stavano litigando lui è intervenuto ma è intervenuto anche il padre di uno di questi che pensando chissà che cosa gli ha dato un pugno prima in faccia e poi calci mentre lui era a terra nella schiena tanto da veramente procurargli delle gravi ferite la squadra ternana composta da 13 anni incontrava la pari grado di roma poi c'è stata l'invasione in campo e credo che questo episodio molto brutto molto brutto dal punto di vista sia dell'ordine pubblico che anche sportivo sortirà in effetti piuttosto importanti specialmente dal punto di vista giudiziario arresta chiusa nel cimitero trovata dopo 12 ore una brutta disavventura per una nonnina di 80 anni una disavventura per una donna che è stata soccorsa dopo 12 ore era un po' in stato confusionale trovata nel cimitero dove si era persa è rimasta per tante ore fino alle 23 di sera era arrivata lì al mattino per fare visita alle tombe di alcuni parenti poi si era persa nei miandri dei vialetti del cimitero non era stata più trovata nelle persone che si trovavano all'interno si era una corte dello stato confusionale della donna la quale è appunto è rimasta lì sola soletta anche dopo la chiusura dei cancelli finché i parenti allarmati non hanno chiamato le forze dell'ordine è stata avviata la ricerca al lume delle torce è stata ritrovata ovviamente scopre messaggi equivoci, botte prima delle nozze questo è un episodio, questa volta non è l'uomo che malmena la donna ma è la donna che malmena l'uomo è accaduto alla celletta lei ha aperto il cellulare lasciato inadvertitamente dal suo fidanzato ha trovato dei messaggi un po' equivoci si è inalberata ha cominciato a malmenare a picchiare violentemente il suo ragazzo finché non è arrivata la polizia è chiamata anche dalle persone che abitano attorno perché hanno sentito gli schiamazzi e ha fatto cessare l'episodio la donna ha colpito l'uomo sferrando un violento calcio al basso ventre dove fa veramente male addirittura c'era quasi così era avuto l'idea del ricovero all'ospedale poi il dolore è diminuito e quindi la cosa è finita lì non si sa se i due hanno ricomposto la loro lite e continueranno a sposarsi, a fidanzarsi non lo sappiamo e poi purtroppo dobbiamo riferire di un lutto l'addio a Roberto Semprucci la ditta MCS è in lutto si tratta del contitolare della nota azienda di mobili di Monbaroccio che gestiva insieme al fratello e scomparso alla età di 50 anni il cordoglio dei colleghi purtroppo un lutto per un male che non perdona si tratta del titolare della ditta MCS mobili di Villa Grande di Monbaroccio insomma, sapevo che non stava bene ha dichiarato Lorena Fulgini presidente del gruppo mobili di Confindustria ricordando la figura di Roberto Semprucci sapevo che non stava bene ma quando mi hanno detto che era morto la notizia mi ha scioccato e veniamo ora al Corriere Adriatico dove si parla di un problema annoso si tratta di un problema annoso costituito dalla presenza dei fanghi a Torrette assediati dagli animali il degrado vicino a casa la protesta a Torrette per il deposito dei fanghi nell'area di Fantasy World provvisorietà lunga 10 anni ogni anno si dice che questo cumulo di fanghi che è stato depositato prelevato dal porto poi depositato a Torrette verrà rimosso dovrebbe essere depositato nella cassa di colmata del porto di Ancona ma ogni anno poi si rinvia di anno in anno e sono passati 10 anni ormai sembra una colinetta così naturale in realtà non lo è che si è costituita all'interno della piana di Fantasy World ma è un'emergenza che cosa fa? che attira animali dannosi i residenti notano la presenza di topi, bisce, volpi e istrici i cavi elettrici delle auto addirittura sono tutti rosichiati da questi animali e poi sono cresciuti anche tanti rovi insomma un degrado a cui occorre porre fine non dipende ovviamente tutto dall'amministrazione comunale dipende anche dalla disponibilità di questa area di colmata dove dovrebbero essere trasferiti i fanghi che sono stati appunto prelevati e poi a fondo pagina abbiamo un ricordo del regista Leandro Castellani per la scomparsa di Catherine Spuck la protagonista della gatta il sceneggiato memorabile per noi il sceneggiato che Leandro Castellani girò a Fano e a Pesaro con Catherine Spuck insieme anche agli attori Mario Valdemarin Orso Maria Guerrini e Nino Castelnuovo ma anche tanti tanti personaggi fanesi e pesoresi il giornale ricorda Gare Vincenzi Mimma Cavazzoni Ortenzio Rivelli Giulio Cotignoli Ivo Scherpiani Aladino Mencarelli Guido Ugolini Sirio Gentili Carlo Pagnini Luciano Pusineri e tanti tanti altri ancora alcuni fecero le comparse alcuni interpretarono piccoli ruoli comunque quel sceneggiato è rimasto un po' nel cuore di tanti fanesi e di tanti pesaresi e chissà che non possa essere riproiettato per rivivere quei momenti che videro le nostre due località un po' alla ribalta teleesesiva e quindi il cordoglio per la scomparsa di questa attrice la presidente dell'Africa Chiama scusate vola in Zambia missione al centro maternità si tratta di Anita Manti che verificherà la funzionalità della struttura realizzata dall'Africa Chiama un ospedale per le partorienti pensate che in questi paesi dell'Africa molte donne partoriscono senza assistenza medica e quindi avere la possibilità di un centro di maternità è molto molto importante per la salvezza sia delle mamme che per i bambini e poi a parte l'articolino di Spalla che riguarda la positività del sindaco Massimo Seri di cui abbiamo già parlato vediamo invece quest'articolo di fondo che riguarda la festa del Ponte Metauro ieri era la seconda festa di Pasqua e molti famesi hanno approfittato per fare visita al santuario di Ponte Metauro una festa tradizionale quella anzi era una mezza festa addirittura tempo fa i negozi nel pomeriggio erano chiusi perché tutta Fano festeggiava questa festa del santuario posto alla sua periferia ma anche ieri questa festa è stata sentita perché molte persone già dalle 8 del mattino hanno frequentato le messe che per ogni ora poi si sono susseguite per tutta la mattinata nel pomeriggio ne sono state celebrate altre due una alle 17 e una alle 18 quest'ultima con la presenza del vescovo Armando Trasarti che è arrivato sul sagrato della chiesa lo vedete qui in questa fotografia salutato dagli sbandieratori della Pandolfaccia perché la Pandolfaccia è nata proprio a Ponte Metauro a Fossombrone finalmente sono stati appaltati i lavori per il viale ridotto a Groviera è un viale pedonale e il viale martiri della resistenza riservato appunto ai pedoni sul lato destro della Flaminia direzione Montemari in pieno centro abitato a Fossombrone l'intervento è già stato annunciato dall'ex sindaco Bonci l'avvio previsto nel mese di maggio e poi abbiamo un intervento invece di carattere didattico alla scuola Leopardi di Colli al Metauro stragi di mafia progetto didattico le memorie del sacrificio di Falcone e Borsellino con Cigliola e Giomaro sono appunto i due giudici e questa mattina saranno presenti nella palestra della scuola interverranno come ho detto la magistrata Valeria Cigliola che è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro e il giornalista del Corriere Adriatico Lorenzo Furlani per una conferenza intervista sul trentesimo anniversario delle stragi terroristico mafiose organizzate da Casa Nostra che causarono complessivamente 21 vittime di cui le più note appunto furono quelle della morte dei magistrati simbolo della lotta alla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vediamo anche la pagina di Senigallia ritrovo al parco per un droga party in quattro finiscono nei guai due sono minori gli altri sono appena appena maggiorenni il gruppetto è stato sorpreso dai carabinieri con gli spinelli in via Mattei i genitori sono stati convocati in caserma e poi il Corriere Adriatico si occupa anche della scomparsa di Andrea Rabciuk la 27enne di origini rumene sparita nel nulla il 12 marzo sarà il cyberspazio a rivelarlo perché le indagini ora coinvolgono i cellulari e le chat cancellate messaggi audio e video spostamenti individuati dalle app si cerca appunto tra i cellulari degli inquisiti dei computer appunto dalle nuove tecnologie degli inquisiti qualche traccia per risalire alla sorte di questa donna di questa donna e vediamo anche le pagine pesaresi del Corriere si parla ancora delle tariffe in spiaggia vediamo qui l'articolo che riguarda un articolo a piena pagina sul Corriere Adriatico c'è un piccolo ritocco piccolo insomma adesso poi ognuno valuterà se è piccolo o grande per quanto riguarda l'affitto di ombrelloni di sedie a straio insomma delle vacanze balneari in spiaggia alle tariffe in spiaggia al mare senza più vincoli tra gli ombrelloni non ci saranno più distanze obbligate insomma ci sarà molta più libertà ma i prezzi però aumentano vediamo come aumentano per un ombrellone con due lettini mediamente il costo è sui 600-700 euro tra Baia, Flaminia, Levante, Ponente e Sottomonte ma sui prezzi possono incidere la posizione ovviamente la fila e lo stesso stabilimento balneare quindi c'è variazione tra chi farà pagare 600 euro e chi 700 insomma differenza non è poco a Baia, Flaminia si possono trovare offerte anche tra 550 e 580 euro in Viale Trieste in alcuni bagni in prima fila i prezzi possono oscillare anche tra i 900 e i 1000 euro e i 1100 addirittura 1200 euro le tariffe secondarie sono tra 600 e 660 euro le file più arretrate anche 550 euro insomma vale la pena forse stare un pochino più indietro rispetto alla battigia e godere ugualmente il sole la movida molesta va bloccata subito freno anche ai locali dopo i vandalismi di Pasqua sono subito iniziati i vandalismi appena si apre la stagione turistica in questo caso interviene il presidente degli albergatori Costantini che chiede maggiori controlli nelle zone calde ma anche la videosorviglianza non è solo un problema di ordine pubblico ma è anche un problema sociale di devianza di alcuni minori che sfuggono al controllo delle famiglie e che poi si ritrovano sulla spiaggia oppure in strada magari abusando di alcol e diventando pericolosi per sé e per gli altri e poi vediamo gli interventi per la ristrutturazione della pavimentazione di Piazza del Popolo Piazza del Popolo prima la ditta poi dettiamo i tempi del cantiere parla così l'assessore Pozzi per questo grande intervento ed era l'ultima notizia così possiamo chiudere i giornali Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle 20.30 occhio alla notizia su Fano TV questo è tutto a risentirci a domani a domani Grazie a tutti.